L'euro si muove in rialzo nei confronti del biglietto verde. Il cross euro-dollaro usa quota 1,1156 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1172. In lieve ripresa la produzione industriale dell'eurozona, nel mese di novembre, che ha registrato un incremento mensile dello 0,2%. Il biglietto verde si apprezza nei confronti dello yen. Il cambio dollaro usa yen quota 110,04, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 110,13. Accelerano le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Nel mese di dicembre si è registrato infatti La sterlina corregge ancora nei confronti del biglietto verde a quota 1,3049 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al nuovo livello di supporto visto in area 1,3023 dollari. Segnali negativi giungono dalla produzione industriale nel Regno Unito, con l'indice che ha registrato L'euro si muove in rialzo nei confronti dello yen. La coppia scambia 122,77, con la nuova area di resistenza vista a 123,34. In forte ripresa gli ordini di macchinari all'industria giapponese, grazie soprattutto alla domanda da parte del settore privato Grazie per la visione!